E' un film storico? Questi galli sono proprio dei cervaggi No, hanno senso di ritmo, eh E' un film di magia? C'è un'arma segreta governatore Una vozione magica Funzio! No! E' un film d'amore? Ma riconosci e fa il balà? Mi vuoi sposare? E' un film comico? Che ti serve, Reggio? Vedere Cesare e darci questo Ma vedi Cesare, va se è un briaio E' un film per tutti Asterix e Obelix Contro Cesare Lunedì alle 21 su Rai 2